Sono cinque anni che ho preso questa attività, già esisteva da prima, si chiama la Stella Azzurra, sono io che faccio le preparazioni, quindi sono io di dolare e io preparo le cose. Sono cinque anni che lavoro qua, facciamo pizza da sporto, una mini tavola calda perché purtroppo non ho spazi per farla più grande. Cerco sempre comunque di gratificare il cliente perché comunque a me, cioè lo faccio con passioni, faccio pizza a pala, faccio rosticceria, friggitoria, i miei piatti e poi tutto quello che comunque il cliente mi chiede, io cerco sempre comunque di soddisfarlo. Facciamo anche pranzi a portare via, soprattutto nelle festività, cioè Natale, fine dell'anno, qualunque cosa, feste di compleanni, facciamo feste per bambini, per grandi, qualunque cosa un cliente comunque mi chiede. La pizza alla palla ho preferita farla così perché comunque secondo me è una pizza molto più leggera, meno grassa di una pizza alla teglia. L'impasto viene fatto in 24 ore di liquidazione e poi io uso solamente olio oxidovergine d'oliva messo sopra crudo, quindi la pizza è molto più buona e molto più digeribile sicuramente. Infatti ci sono persone che vengono e hanno intolleranze oppure fa male il lievito, invece con quella mia hanno riscontrato comunque che la possono mangiare tranquillamente. E di questo sono molto felice perché comunque io non avendo fatto una scuola l'ho fatto sempre per passione, quindi poi giornalmente mi informo delle cose, dei cambiamenti. Ho iniziato a lavorare comunque ai ristoranti, mai fatto questo lavoro comunque però anche da piccola mi piaceva comunque l'ambiente. da lì è partita la mia passione e ho fatto sempre lavori sottotitolari, non ho mai avuto una cosa mia propria, però l'ho fatto sempre comunque come se fosse stato mio e poi ho deciso di prendere questa strada mia personale perché comunque con la passione che ho, cioè era un mio sogno, fare una cosa mia e ci sono riuscita e spero Dio che comunque mi aiuti a continuare questa strada. Siamo aperti tutti i giorni, dalla mattina alle 7 fino alle 9 e mezzo, 10 secondo gli ordini, sono chiusa solamente il martedì, il mio giorno di riposo. Grazie. Grazie.